Premio Innovazione Toscana, riconoscimento a nove aziende che hanno saputo promuovere idee ed esperienze imprenditoriali di successo per il rafforzamento delle radici e delle filiere locali. Presentata in consiglio regionale una ricerca sulle scuole di musica, in Toscana attive 500 scuole con 65.000 allievi e 6.800 maestri. La Filanda, una fabbrica, un quartiere, un mondo a cura di Melania Sebastiani, un libro edito dal consiglio regionale che racconta la storia di Aula e dell'ex stabilimento Montecatini. Il Premio Innovazione Toscana. Sono nove le aziende che hanno ricevuto riconoscimenti nelle diverse categorie nell'ambito della quinta edizione del Premio Innovazione Toscana promosso dal consiglio regionale Confindustria Toscana e organizzato da Digital Innovation Hub Toscana con l'obiettivo di promuovere idee e esperienze imprenditoriali di successo per il rafforzamento delle radici e delle filiere locali. La cerimonia si è tenuta nella sala gonfalone di Palazzo del Pegaso. L'ho voluta fortemente da consigliere regionale penso che sia una di quelle iniziative da ripetere, mandare un messaggio forte, potente alle ragazze e ai ragazzi che noi ci siamo, che la regione cammina al loro fianco, al fianco di chi scommette sul futuro, al fianco di chi costruisce innovazione. Lo vado ripetendo da un po' di tempo. Noi viviamo in una regione dalla bellezza unica, di arte, di storia, di agricoltura, le cui radici profonde la rendono una delle regioni più belle al mondo, ma noi siamo anche una regione terra di scienza, di ricerca e allora compito dell'istituzione è mandare questo messaggio potentissimo. O noi abbiamo la capacità di anticipare il progresso, di costruirlo o noi rischiamo di subirlo. Allora grazie alle tante ricercatrici, ai tanti ricercatori, alle imprenditrici, agli imprenditori che oggi sono qui, noi riusciamo a costruire una Toscana più bella che può guardare anche in un tempo difficile come quello che stiamo vivendo, stiamo uscendo dalla pandemia, abbiamo una guerra a poche centinaia di chilometri da noi, mandare il messaggio che questa terra può farcela e può guardare con speranza e ottimismo al futuro. Investire sui giovani, investire sulla ricerca vuol dire investire sul futuro ed è quello che noi vogliamo portare avanti. Innovazione e sostenibilità ambientale e temi che hanno caratterizzato i progetti vincitori. Abbiamo molto lavorato in queste ultime settimane per verificare e valutare i premi che sono stati selezionati, che hanno partecipato a questo importante riconoscimento e devo dire che è molto bello vedere quanto dinamismo e quanta voglia di innovazione c'è nella nostra regione, quindi è stata un'esperienza per noi sicuramente molto nutriente e anche piena di speranza e di prospettiva perché sappiamo che sui temi dell'innovazione si gioca lo sviluppo e si gioca il futuro della nostra regione. Quando il pubblico e il privato si mettono insieme e fanno le cose fatte bene, oggi siamo a testimoniarlo. Quindi noi stimoliamo ovviamente la domanda da parte dei giovani e delle imprese per fare innovazione. Nel nostro paese abbiamo bisogno di innovazione e quindi siamo felici oggi di premiare diverse aziende dipendentemente dalla grandezza e siamo veramente felici. Si chiama poi Amerigo Vespucci quindi non siamo a scoprire talenti, il nome stesso si capisce a cosa serviamo. Nella categoria brevetti il primo premio è stato assegnato alla Bagnoli David, officina meccanica di Barberino Tavarnelle che ha realizzato un apparato per l'emissione di un gas tecnico all'interno delle centrifughe già presenti nei frantoi. Questo progetto innovativo prevede che andando in un separatore centrifugo ad asse verticali come sono dotati diciamo il 95-99% dei frantoi oleari in tutto il mondo e ovviamente anche in Toscana parte dall'esperienza con dei miei clienti che vedendo che su queste macchine si erano create delle criticità e ho pensato di fare questa applicazione in modo da limitare del tutto e poi da poter pilotare l'ossidazione nella fase finale della separazione centrifuga. E appunto questo qui permette di non avere più un olio pienamente ossidato come è nella normalità del lavoro in frantoio e invece in questo modo possiamo pilotare e addirittura come ho già detto annullare del tutto l'ossidazione del prodotto e quindi avere un prodotto più longevo e più sano a livello anche alimentare. Premio ricerca sviluppo innovazione digitale invece al progetto della Hitec SRL di Marina di Carrara. Hitec è una società di semiconduttori, facciamo i chip, ora si sente tanto parlare del chip act e facciamo sensori di visione e in particolare proponiamo soluzioni per la visione ispirate all'occhio umano. Siamo spin-off della scuola superiore di Sant'Anna e siamo ancora in fase di start-up. Nella categoria premio transizione ecologica e energetica ha vinto il progetto della Moivus SRL di Livorno che riguarda un sistema mobile di tracciamento delle acque reflue. Il nostro progetto è un progetto che prevede un impianto mobile per il recupero della risorsa idrica partendo da un refluo civile o industriale mediante un processo depurativo che lavora in economia circolare, quindi utilizzando rifiuti dell'industria della chimica mineraria, industrie estrattive e cose del genere. Vengono depurati i reflui e recuperato l'acqua come acqua smotizzata da rimettere nel ciclo produttivo dell'industria che ha generato il refluo. E poi il premio start-up innovative con il primo posto che è stato assegnato alla Next Generation Robotics SRL di Pisa. Il progetto consta sostanzialmente di un robot per l'ispezione del sottocassa dei treni, quindi ispezione remota. È possibile effettuare questa ispezione tramite questo dispositivo senza la necessità di binari sopraelevati e quindi di portare il treno negli impianti di manutenzione. Il robot può andare su qualsiasi binario e effettuare l'ispezione digitalizzando tutto il materiale visionato e poi è in grado chiaramente tramite il sistema di intelligenza artificiale andare a rilevare potenziali guasti e muoversi quindi verso un tipo di manutenzione predittiva. Alla Enco SRL di Firenze infine è stato assegnato il premio giovani, menzione speciale alla Cpet SRL di Casal Guidi Serravalle Pistoiese. Tutta un'altra musica È un movimento particolarmente rilevante, inclusivo e di grande valore educativo quello delle scuole di musica della Toscana. Lo rileva un'indagine nazionale commissionata dall'Associazione Italiana delle Scuole di Musica e certificata dalla Facoltà di Statistica dell'Università di Bologna. Si parla di ben 65.000 allievi iscritti a 500 scuole con 6.800 insegnanti impiegati e ancora 4.000 sono gli allievi di origine straniera e 1.400 quelli diversamente abili a completare un quadro di forte inclusione che fa di queste istituzioni diffuse e radicate in tutto il territorio regionale un formidabile presidio per la socialità e l'educazione, oltre che naturalmente per la formazione musicale specifica. È un rapporto che nasce dall'esigenza di trovare visibilità per questo comparto formativo, riconoscimento a livello nazionale e regionale e anche disciplina, inquadramento e relazioni istituzionali. Devo dire che in Toscana il rapporto con la scuola, ad esempio, il supporto all'offerta formativa è molto sviluppato con un dato che supera di diversi punti percentuali il dato nazionale, ma ciò non significa che non manchi un inquadramento generale. Con gli Stati Generali vorremmo accogliere i risultati del rapporto nel quadro dei dati che stiamo costruendo e anche inserire le richieste delle scuole di musica nelle risoluzioni che gireremo al Governo e nei nostri atti determinativi, proprio perché si tratta di un comparto che forma e offre anche delle ispirazioni poi professionali per molti che le frequentano, ma anche per chi poi non lavora con la musica genera un'opportunità formativa che condiziona positivamente poi il rapporto con l'offerta culturale del territorio nella popolazione adulta. Quindi un settore da custodire, da valorizzare e da sostenere. L'associazione delle scuole di musica è nata in Toscana negli anni Ottanta, perciò noi la sede è a Prato, presso la scuola di musica del comune di Prato, perciò voglio dire l'AISM è nata perché c'è stata la Toscana che è stata anticipata, è stata anticipatrice. Poi, adesso è diventata più nazionale, stiamo cercando di regionalizzare l'associazione, c'è l'associazione in Emilia Romagna, nel Lazio, adesso in Toscana, in Lombardia, stiamo cercando perché la regione è quell'istituzione più vicina, che abbiamo più facilità nel essere non più trasparente, perché uno dei problemi che abbiamo è la trasparenza, nel senso che non ci considerano, mentre le regioni credo che da questo punto di vista siano molto più attente. Con questa sensibilità da parte del Consiglio regionale, credo che abbiamo ottenuto un bel risultato. Quello che noi vogliamo è che ci sia un albo regionale dove noi mettiamo alcuni paletti di qualità che ci distinguono da scuole che fanno solo il corso per avere qualche allievo in più. L'indagine nazionale ha coinvolto, con interviste emirate, un campione di quasi 900 scuole sulle oltre 7.000 presenti in Italia. Dalle interviste emersa una realtà piuttosto diversificata sul territorio nazionale, con una media per scuola di quasi 127 allievi iscritti. Quello che ora l'Associazione Italiana delle Scuole di Musica Toscana vuole fare è prendere spunto da quest'ottimo lavoro del nazionale e cercare di mappare il territorio regionale con tutti i soggetti che operano nel settore dell'educazione musicale. Come diciamo buona parte del lavoro e del tipo di formazione nel campo della cultura anche nel settore musicale c'è stata una chiusura totale. Quindi ripartire è sempre estremamente difficile per tutti ma in modo particolare per chi si trova ad avere un ruolo che è molto importante dal punto di vista proprio della promozione della persona e anche della formazione ma che non è recepito e non è vissuto a livello generale, molto generale ma anche un po' particolare, come essenziale. La storia di Aulla in un libro C'è tutta la storia di Aulla, comune in provincia di Massacarrara e dell'ex stabilimento Montecatini nel libro La Finlanda, una fabbrica, un quartiere, un mondo, a cura di Melania Sebastiani ed edito dal Consiglio regionale della Toscana. La pubblicazione rievoca il quartiere, la fabbrica e il mondo dell'ex stabilimento Montecatini che per tutto il Novecento fu il polveroso e rumoroso cuore di plastica e iuta di Aulla e dell'intera zona lunense, gemello di quello di Fossamastra in provincia della Spezia. La storia è impreziosita da materiali inediti frutto di ricerche di archivio. Ho curato il progetto e la pubblicazione, oggi lo sfoglio per la prima volta e per me è un po' come sfogliare un album di famiglia, ma non solo, è come sfogliare proprio un album di comunità, non perché vi siano soltanto legami familiari, ma perché dietro c'è proprio anche un progetto sociale. La storia che è cominciata sui banchi di scuola è andata poi nelle case a conoscere questi testimoni anche di una certa età, si è articolata in un video, si è poi articolata anche in una mostra, ha assunto diverse forme, è entrata in accademia, in università attraverso una conferenza e torna oggi attraverso questo quaderno che utilizza tutti gli strumenti a disposizione, c'è un QR code che rimanda a dei siti internet, ci sono delle foto, ci sono ricerche d'archivio, ci sono le voci di ieri e di oggi che vanno a comporre un mosaico di storia del Novecento. La Filanda, una fabbrica, un quartiere, un mondo, nasce da un progetto scolastico portato avanti nel 2017-2018 da una classe del liceo classico di Aulla con la professoressa Claudia Bacci. Le ragazze e i ragazzi avevano prodotto un videodocumentario accendendo nella comunità una scintilla sociale che ha fatto scattare la voglia di andare avanti nella ricerca. L'idea è nata da una ricerca scuola, è nata da una ricerca scolastica, da un'attenzione accurata, scientifica, meticolosa di ricostruzione di una storia locale che è respiro di un'ampia storia nazionale. Il valore di questo testo, di quest'opera, sta proprio nel riempire un vuoto, anzi nell'andare a soccorrere la storia, disciplina naufragata in questi decenni di trascuratezza politico-istituzionale, per ridare fiato a una disciplina che oltre che essere disciplina ricca di contenuti che vanno riorganizzati, è una disciplina altamente formativa per costruire le teste ben fatte di cui parla Morem. È una ricerca storica ma una ricerca particolare perché si tratta di storia industriale e per di più la ricerca partiva da una realtà totalmente scomparsa perché la fabbrica, la filanda di cui si parla nel lavoro oggi non esiste più, è uno di quei luoghi abbandonati da industrializzazione su cui dopo un periodo di abbandono è sorto un supermercato. I ragazzi hanno lavorato non solo con gli strumenti di una ricerca d'archivio ma hanno realizzato un documentario utilizzando le interviste orali ai sopravvissuti della fabbrica. Quindi una metodologia innovativa rispetto anche a quello che diceva Mirella perché si trattava di lavorare su un materiale su cui appunto le tracce erano completamente scomparse. Il lavoro, e chiudo, parte dal titolo perché il titolo contiene già il significato di come si è sviluppato. La filanda una fabbrica, un quartiere, un mondo e infatti è proprio tutta la comunità che ruota intorno alla fabbrica che è stata esaminata e restituita alla cittadinanza.